ciao 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 qua da colonia si è appena conclusa la seconda giornata di gamescom nonché la prima in cui era impossibile camminare perché c'erano 220 mila persone riversate nella fiera compresi anche diversi italiani e niente siamo qui per chiacchierare con voi della giornata della serata di quello che abbiamo visto e così via fateci ciao con la mano perché c'era il simpatico nabu che si preoccupava c'è il lag arriva dopo la roba pensava non fosse partita la diretta tergiversa anche un po che c'è la pubblicità tergiversiamo pokoto sta aggiornando windows è a 36.624 ma guarda che il 36.624 è tosto però comunque l'urlo di jopep terrorizza l'occidente quindi mi sa che siamo arrivati sembra il titolo di un porno tra l'altro ma credo che andrà in produzione domani mattina va bene allora di cosa vogliamo parlare beh allora io comincerai con una cosa che è rimasta un po metà ieri nel senso che avevamo parlato di bloodborne perché tu hai dato la presentazione ma oggi sei andato a provarlo tre minuti perché si sa che insoniti cacciano a calci dopo pochi secondi ma sufficienti per morire il marino 42 volte no ma soprattutto ti cacciano se sei pokoto raccontaci raccontaci no come avevo già detto ieri lo ribadisco gli sviluppatori hanno pensato almeno per questa demo che non rappresenta chiaramente la difficoltà della versione finale di ridurre la difficoltà di qualche grado di rendere quindi il gioco più accessibile nel pieno rispetto delle persone che si fanno ore e ore di fila e le fila della gamescom sono davvero interminabili per poi provare un gioco e posso solo immaginare quanto potrebbe inalberarsi una persona che fa cinque ore di fila e poi gioca tre secondi col joypad in mano potrebbe non essere bello sì è l'emozione confermo le impressioni ricavate da chi mi ha preceduto a Los Angeles sul fatto che per quanto almeno per ora il designer Miyazaki voglia negare la questione le somiglianze con Dark Souls sono palesi e non sono necessariamente un male anche se le armi da fuoco effettivamente danno un alto dinamismo al combattimento e sembrano avere il loro peso nell'economia del gioco Bloodborne è ribadisco resta secondo me l'esclusiva di peso della matrice giapponese per playstation 4 e considerato il curriculum dello sbattore considerato poi quanto adesso è importante stimato anche dal grande pubblico presta veramente il titolo su cui sentirei di puntare mi fate aggiungere solo una roba esatto no proprio su quello ma ha ragionissimo no no non ha ragionissimo invece perché in realtà secondo me sta nascendo un grosso equivoco no assolutamente non hanno assolutamente detto e non l'hanno detto a noi di IGN l'hanno detto a noi una platea di 50 persone dove non sapevano nemmeno chi ci potesse essere quella è chiaramente una risposta sbagliata un'interpretazione capita male da qualcuno tradotta male che adesso ha generato il classico effetto domino e mo Dark Souls ma non intendevo quello comunque ah no io intendevo invece quello che scrive Galbra appunto non intendevo lui dice sarà difficissimo più accessibile che è esattamente quello che è stato detto di Dark Souls 2 e di Dark Souls 1 e invece qua però hanno detto che no sì sì no presente c'è la cosa sbagliata ma ciò non toglie perché quando ci saranno quelli è più difficile è quelli che no non è vero è più facile però la corrente di pensiero non è vero questi giochi non sono difficili sì no 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 vabbè però oggi no no ma non è non è Gabriel Flamer ci mancherebbe è semplicemente il discorso che questa cosa la leggevo anche ieri sera su internet ieri notte tardi e cioè non è così hanno interpretato male mo effetto snowball ripeto la cosa è degenerata anzi ci hanno tenuto a specificare che è un ritorno se vogliamo una roba anche più difficile proprio per il discorso che faceva ieri Pocotto nello spiegare come si gioca non hai lo scudo devi rischiare un po' di più essere più offensivo con il rischio che più sei offensivo ti prendi un'altra tramvata perdi ulteriormente l'energia senza poterla più recuperare mi sembra anche proprio sulla carta una roba un pochino più come dire più ardita ecco tra l'altro questa cosa mi ha fatto venire in mente che Wallonne raccontava che alla presentazione alle 3 ogni volta che quello che faceva la presentazione diceva no perché Dark Souls è una serie di giochi difficili c'era un giornalista che diceva no ma non è vero Dark Souls non è difficile e continuava e insisteva ho capito ma perché devi trollare no ma naturalmente non per cioè non è che ce l'ho con Gabbra ci mancherebbe era solo per specificare questa roba che si legge online che secondo me è una grossa come se poi i programmatori giapponesi avessero recepito la provocazione di questo tizio cioè vado a mente credo che offre un software che non riesco neanche a pronunciare abbia fatto spallucce no ma se non ricordo male Wallonne diceva che proprio non si capivano cioè questi dicevano eh no perché sono difficili il giornalista diceva non sono difficili e l'interprete è appunto sono difficili e sono andati avanti così è noto nanna che si la canta è così ma una gag di Ben Hill va bene così va bene già Gianni è scemotto qua hanno visto un po' di giochi di guida io faccio Gianni ah pensavo Belangio e Rosticino pensavi Devolver abbiamo visto un po' di giochi di guida degli entusiasmanti o se volete del tipo partiamo con il più bello ma il più bello per distacco tipo 12 secondi di distacco sì 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 inattamente 12 secondi per Forza Horizon 2 per Forza che purtroppo era una demo off-hand nel senso che c'era off-hand non si poteva provare ce l'hanno fatto vedere vabbè ce l'hanno fatto vedere c'era il signor Ralph Hulton che è il creative director il volto di Dio il playground games il volto di Dio ribattezzato dal presidente Belandi il gioco ci è piaciuto tanto ma tanto ma tanto tantissimo ci hanno mostrato una modalità che non avevo provato a Los Angeles cioè guida libera massimo divertimento in mezzo ai campi seamless sì seamless è vero hanno usato anche oggi la parola seamless per descrivere l'esperienza il passaggio da single player a multiplayer che non c'è quindi volevo dire cioè sì era un pretesto per dire seamless ok boh vabbè a me mi è rimasto impresso quel passaggio in mezzo ai fiori viola una roba poetica e sì che frociato no vabbè no no però effettivamente ho detto che frociato no vabbè però che sfrocio visto lì dal vivo è una roba cioè con l'illuminazione la pioggerellina sulla macchina sì hai notato lo sporco che rimaneva sul parabrezza al passaggio del tergicristallo assolutamente una roba di classe cosa gli vuoi dire è sempre un filo meno bello di forza motorsport 5 per carità chiamiamolo ripagliamo perché non è che magari la gente pensa oh magari è una figata è più bello di forza secondo me cioè pur muovendo un sacco di roba perché poi la draw distance è gigantesca nel dettaglio è stupefacente sì poi molto bello anche la Lamborghini Huracan con cui ha distrutto tutta che era Nizza era Nizza e distruggeva tutta Nizza tavolini di bar dei bar paletti paletti paletto il nemico dall'Huracan sì molto bella anche l'ambientazione con la chiesa di Roccata che cos'era con la cavalcata delle Valkirie con le auto da off-road parla di project no poi scusami la lanciafulvia la lanciafulvia c'è la lanciafulvia versione HF che solo per questo è il gioco di guida bella bellissima vabbè io poi l'ho ringraziato a nome di tutte i GN Italia al signor Fulton e gli ho chiesto anche quando ci sono domande no io voglio il gioco subito posso averlo subito e lui mi ha detto vabbè aspetta un altro po' il 30 settembre tu hai venduto Xbox One te lo ricordi e non ce l'ho non è che ha venduto gli si è rotta ma l'ha venduta vabbè l'hai venduta rotta sei un paccaro sono un venduto sono venduto sei una rovina di ebay quindi vabbè Forza Horizon 2 è veramente bello veramente perdonatemi tanta roba sì assolutamente assolutamente e tu hai visto anche Project Cars time out please chiede Wallone se è vero che in Bloodborne non ci saranno oggetti curativi e quindi di base l'unico modo per curarsi è la meccanica che ieri hai spiegato è falso ci sono anche gli oggetti curativi anzi hanno aggiunto addirittura siccome ci sono due slot tradizionalmente spiegavano nella serie dei Souls e come tra virgolette abitudine visto che si muore spesso e si rischia sempre di morire di solito uno degli slot veniva utilizzato da tutti per utilizzare la fiaschetta e hanno spiegato la fiaschetta curativa naturalmente dicevano così facendo era come lasciare uno slot solo e si sono perse delle dinamiche di utilizzo combinato di due tipi di oggetti che invece potevano dar vita a qualcosa di interessante ce ne siamo resi conto e abbiamo detto ok buona assegniamo direttamente uno slot statico particolare diverso solo alle pozioni curative e lasciamo liberi gli altri due per appunto creare dei dinamismi ad esempio hanno fatto vedere durante la demo potevi creare una boccetta con l'olio la molotov la molotov da sola fa un tot di danno se prima però tiri l'olio e poi tiri la molotov fai un danno molto superiore quindi hai questo tipo di interazioni qua bene ho finito Walone spero ti abbia soddisfatto la risposta sì allora prima di prima di continuare con gli autori siamo in una redazione gente incompetente infatti i racing game quindi i racing game vengono così relegati al pur parlare il problema è che l'esperto di giochi guida è un boxaro e quindi qualsiasi gioco non sia forza in un Alexbox comunque sì e no perché è talmente idolatra talmente Xbox che non vuole averlo allora ci chiedono di Tomb Raider ma Tomb Raider c'è in fiera non credo credo di aver visto solo Tomb Raider nel tempo l'opposito è che tra l'altro vorrei andare a curiosare però non abbiamo ancora avuto occasione di farlo e ci chiedono se il fantomatico fantomatico evento Capcom alla fine in cosa consisteva uno spettacolo di marionette probabilmente lanciavano remake DLC e contenuti non so entravi e ti prendevano dei soldi credo che uno spettacolo di marionette che sia più divertente di Deep Down a prescindere credo dai parliamo degli altri giochi di guida che non sono Forza Motorsport vieni Marco dormi il microfono sì no perché mi servirà anche il fra un po' il supporto di Marco parliamo di Project Karts che ho visto e ho provato per fortuna ho provato purtroppo però con il Joypad va bene ho scritto magari o avrete letto l'articolo ma comunque ve lo riassumo in tre secondi Hockenheim Formula Rocky quindi un'auto aggressiva ma non troppo potente molto bello esteticamente mi ha mi ha colpito particolarmente la visuale interna dal casco molto belle anche le altre visuali sempre quelle interne quella esterna sì funziona efficace dal punto di vista grafico ripeto le condizioni di meteo dinamiche la pioggia il sole i riflessi funziona tutta la perfezione fluidità ottima purtroppo ripeto l'ho provato con il Joypad quindi a livello di sensazioni di guida sono un po' quelle che sono e non potevano neanche smanettare con i controlli gli aiuti di guida e quant'altro quindi insomma prendete con il beneficio del dubbio tutto quello che vi sto dicendo che ho scritto tutto quello che non sto dicendo soprattutto e alla fine l'ho provato anche con Oculus Rift Marco mi ha mi ha spiegato non essendo esperto di Oculus che si trattava dell'UDK2 dato che gli sviluppatori non potevano vedere quello che io stavo vedendo sullo schermo allora l'immersione c'è e ce n'è anche molta perché comunque potevo girarmi oltre a guardarmi le gambe le braccia tutto il cockpit dell'auto potevo guardare anticipare con lo sguardo la conformazione del circuito e quindi vedere magari dove stavano gli altri avversari insomma veramente gratificante e bello però dal punto di vista grafico secondo me ma non ci siamo ma nemmeno ma nemmeno per sogno sì apriamo posso aprire una parentesi su Oculus nel senso io ho provato oggi due titoli Snow soprattutto che è quel gioco di simulazione di sci e di snowboard in open beta su PC anzi in early access forse su PC che arriverà nel corso del 2015 su PC e anche su Playstation 4 l'ho provato prima così con il controller e poi appunto con l'Udk2 che non avevo mai avuto modo di provare di Oculus Rift e devo dire che sinceramente io ho provato oramai tutte le versioni è una cosa che mi piace parecchio lo sapete però sono rimasto francamente abbastanza deluso perché come diceva bene fotone ne abbiamo parlato anche privatamente noi prima mi aspettavo qualcosa di più come dire vicino a una soluzione vagamente commerciabile lo schermo è il problema vero al di là allora lasciamo stare tutte le implicazioni che comunque esistono sul fatto che è stanca sul fatto che è aliena eccetera eccetera vabbè quello è ok ne parliamo un'altra volta la pura invece diciamo evoluzione del modello di Oculus nuovo secondo me è molto deludente nel senso che è vero che migliora la brillantezza dello schermo è buona anche troppo ce n'era veramente tanta di brillantezza però vabbè poi io ho notato che di bene sborsava però tutta la poesia i colori i raggi che filtrava era una roba brillante quasi accecante e vabbè sembrava graficamente un altro gioco il problema vero è che nonostante il fatto che sia in full hd un conto è il full hd della televisione e un conto è il full hd di uno schermo di un note 3 tra l'altro quello che usa l'udk2 messo a 3 cm dalla faccia sostanzialmente cioè vedi proprio letteralmente la matrice dei pixel e quello che normalmente per esempio una texture fatta per girare a 1080p lì vedevi i puntini che componevano una faccia cioè secondo me è una cosa del genere se la prova un nerdone come noi vabbè ci passa sopra eccetera se vuoi commercializzare il prodotto rendere una cosa universale far fare il botto che tra virgolette si merita la realtà virtuale secondo me così com'è non va bene ma veramente per nulla e di fatto sono quant'è un anno e mezzo che vediamo secondo me sopravvaluti cioè nel senso no allora magari non va bene per carità ma se ne rende cioè la gente comune è la gente che se gli facilmente le vedi guarda se attacchi il cavo questo qua si vede meglio si vede in HD sì no certo questa è ragione però cioè il punto è che secondo me effettivamente quando lo indossi tra l'altro io l'ho provato con Elite che avevo provato a Los Angeles invece con il modello precedente di Oculus e oddio poi vai a sapere magari che oggi ero stanco che ne so l'ho trovato più sfiancante in questa versione rispetto a quella che avevo provato a Los Angeles era la stessa identica demo ah ok ma con il DK2 io ho avuto l'effetto mi ha messo un po' in difficoltà poi oltretutto c'era anche il fatto che ero non so probabilmente era tarato male rispetto alla distanza dallo schermo ma praticamente se non mi piegavo un po' in avanti vedevo davanti a me il me il personaggio dentro l'abitacolo perché comunque nell'abitacolo di Elite tu vedi se abbassi il sguardo vedi il corpo e vedi le mani che fanno i movimenti che fai tu sul controller anche se ancora non hanno messo non c'era Los Angeles non c'era ancora fa tutti i movimenti ma non fa questo sul controller la rotazione il polso però che è figo che ti vedi te è comunque Elite quel gioco lì con Oculus è bellissimo anche solo per un dettaglio a parte che guardi la strumentazione di qua e di là invece di dover premere e girare ma il fatto è che quando tu combatti puoi seguire l'astronave con lo sguardo invece di dover girare per vedere dove sta andando e ti cambia il modo in cui giochi un altro problema era quello della zona neutra che mi si è spostata almeno tre volte cioè sono partito guidando con Oculus in posizione neutra così centrale centrata di fronte allo schermo frontale dopo credo nemmeno neppure un giro la mia posizione neutra era diventata questa ovviamente essendo seduto stando seduto comunque non è che potevo girarmi con tutto il divano quindi stavo così e guidavo con le gambe da una parte e il bus ho girato qui poi il tipo me l'ha resettato e quindi sono ritornato a posto e poi mi si è ristorta ancora di più e questo però mi dicevi che è un problema di aggiornamento sì no possono esserci mi spiegavano che hanno con il fatto del appunto del dev kit nuovo è migliore la tecnologia ma stanno avendo un po' di problemi legati proprio anche al firmware per esempio il fatto che nelle demo non potessi loro da pc remotamente non potessero vedere quello che vedevano i tuoi occhi è una specie di bug che andranno a sistemare ma hanno oculus ha rilasciato un aggiornamento che ha tolto questa feature che era abbastanza importante quando lo fai provare e quindi rimanevano letteralmente al buio dall'esterno del caschetto non lo so comunque rimango molto entusiasta all'idea però mi aspettavo roba più più di rompere una domanda per fotone nel senso questo discorso che ho fatto che secondo me è interessante per per elite questa cosa che comunque ti cambia il modo di giocare perché invece di dover sempre ruotare tutta l'astronave per seguire dove sta andando il nemico puoi semplicemente girare la testa e vedi dove va mentre tu fai le tue manovre è una roba che secondo te chiaramente è in misura diversa perché è un tipo di situazione diversa però può esserci una cosa del genere anche nel gioco di guida che comunque ti cambia un po' il modo in cui giochi te lo cambia senza dubbio non in maniera drastica comunque si può giocare e vivere benissimo senza però il fatto di potersi girare e magari guardare lo specchietto o proprio guardare fuori dal finestrino l'auto che ti sorpassa ad esempio ci sono dei giocatori professionisti che mettono video su youtube c'è GP Labs che io seguo e mette le gare di GP Legend aggiornato al massimo e lui sfrutta quel robetto piccolino che non mi ricordo come si chiama che mi volevano regalare due GDC fa a San Francisco quella ragazza che mi aveva insomma che avevo aiutato o aiutati è un motion tracker che insomma si vendono si vendono diverse ci sono diverse marche di motion tracker che ti permettono di guardarti attorno con quello al di là dell'immersione con l'oculus puoi guardarti sì il fatto di poter anticipare con l'occhio la traiettoria o comunque dove va la curva si può essere utile magari in un circuito che non conosci cerchi di vedere come si snoda se il circuito tipo Hockenheim in versione breve lo fai già due volte l'hai imparato a memoria ha un po' poco senso però comunque è una cosa bella è una cosa in più nel mio caso con Snow secondo me è passato da un gioco un tradizionale videogioco di sci o di snowboard in primavera io ho usato gli sci col casco di Oculus diventava una roba veramente diversa cioè molto più in prima persona letteralmente diventava veramente quasi più un'esperienza che non solo un videogioco i salti per esempio un salto che nel videogame classico sullo schermo facevi un bel salto facevi il trick ed era morta lì tu fai un salto e fai un trick in prima persona in 3D con un caso vi assicuro è una roba che hai la sensazione di vertigini hai la velocità che ti dà un senso completamente diverso diventa un'altra cosa ecco però vedi alla fine fondamentalmente in un gioco di guida comunque devi guardare la strada quindi mi sono reso conto che però lo sguardo veloce che ti stanno provando a sorpassare però è roba di un'occhiatina magari mentre giochi Elite comunque te lo godi lo spazio guardi ma poi ripeto lì c'è proprio il fatto che tu segui l'astronave con cui stai combattendo ma invece di guardare il puntino sul radar io ci ho pensato proprio mentre lo provavo sarò stato almeno due minuti fermo e lo sviluppatore mi guardava che non mi muovevo ma tanto lui non vedeva niente sì però per due minuti comunque mi ha visto immobile pensava sì vabbè stai provando Oculus muoviti goditelo no io stavo cercando di fare il tempo perché io ho la deformazione mia e cercavo di guidare al meglio possibile stando fermo poi ho cominciato a guardarmi mi era più un ah Oculus fammi vedere un po' in giro magari sì ho pensato che lo sviluppatore avrebbe pensato ah guarda non si sta cioè tutta la mia pippa mentale ho incominciato a sfruttarlo però non mi sarei girato forse una volta o due volte in dieci giri a livello di necessità quindi questo è Ualone che si soffia il naso devo farlo sentire nel microfono è il maestro dell'aria facciamo sentire Ualone che si soffia il naso e me lo manda via whatsapp è un idolo perché questa cosa mi fa morire ok e da Project Cars è tutto ciao e grazie e ti stavano sorpassando World of Speed World of Speed prima per non farci tre giochi di guida in fila visto che ho citato Elite dico che sono Gustavo non ti ho trovato quando ci dovevamo beccare ma è stata una fortuna perché è un territorio lì che perdevo tempo ho sentito alle mie spalle qualcuno che diceva Star Citizen e mi sono imboscato stavano entrando e vengo anch'io e quindi ho visto Star Citizen c'era anche Chris Roberts è uno stadio molto più arretrato rispetto a Elite nel senso che è ancora in una fase in cui ci sono i pezzi cioè il pezzo del multiplayer che si sparano le mazzate il pezzo di questo pezzo di quell'altro non è ancora proprio il gioco completo però è di un'ambizione allucinante quel gioco perché mentre in Elite adesso ci sono i viaggi spaziali e poi aggiungeranno il fatto che si può uscire in Star Citizen hai l'astronave i combattimenti c'è tutto il multiplayer tra l'altro con deathmatch cose quindi ci sono proprio modalità di gioco rispetto a Elite che invece è più vai in giro e basta ma soprattutto tu esci che è una roba che abituate ai giochi vecchi mi ha lasciato un attimino di sasso anche se lo sapevo tu fai le tue cose poi atterri esci dall'astronave vai in giro per la base incontri la gente poi torni sull'astronave decolli vai sul pianeta nel pianeta ci sono le gare le gare tipo wipe out cioè è l'universo e per quello è ambizioso cioè vogliono più fanno stretch goal con le donazioni e i soldi e più aggiungono roba è tipo ci sono i campionati di auto sui pianeti in un gioco che è un gioco di astronavi nello spazio e vai in giro a piedi devono adesso domani presentano l'aggiornamento in cui appunto aggiungono anche le gare di corsa ma nel prossimo aggiornamento ci saranno le fasi fps ma fps a piedi in giro per i pianeti ad affrontare via ieri poi fanno le gare di corsa nel senso di footing probabilmente è il gta dello spazio stanno facendo è allucinante ambiziosissimo e tanto lo fanno con i soldi tuoi allora che ne le fai ma i miei no io non gli ho dati ma vergognati vergognati tra l'altro Chris Robbins aveva sonno si addormentava durante i trailer non sto scherzando mi cascava dopo la testa comunque vabbè assolutamente assolutamente interessante vabbè a questo punto stanno facendo Matrix praticamente sì fotone un gioco altrettanto ambizioso ambizioso quale? World of Speed altrettanto ambizioso secondo me sono sbagliate un po' le premesse troppo ambiziose sì ma sono sbagliate le premesse nel senso che qualsiasi disciplina che cerca di reinventarsi e di stravolgere quello che è sempre stata poi finisce per essere un po' pesce e per pesce intendo un po' troppo ambiziosa nel senso che ho provato World of Speed in un due due versus due eravamo due giocatori contro due giocatori quindi un team player un team play e lo scopo non era vincere cioè in una in corsa automobilistica lo scopo non era arrivare primi ma era anche fare ultimi e comunque rispettare soddisfare delle delle requisiti delle soddisfare delle migliorate di cui parla tipo tampina il tuo avversario per almeno tot 100 metri sorpassa almeno tot volte il tuo avversario esegui del tot avevi determinati requisiti da soddisfare e non contava niente fare primo o fare ultimo l'importante era comunque una gara a punteggio io come al solito pronti partenza via siamo partiti a testa bassa io e il mio compagno di squadra ce ne siamo andati in fuga abbiamo vinto di 12.000 secondi però abbiamo perso perché c'erano due ragazzini che stavano dietro di noi e facevano derapate e robe così adrenaliniche e hanno vinto di un bel po' di punti comunque il sistema di guida mi è piaciuto nel senso che è archedone massimo ma archedone massimo del tipo che neppure il freno a mano manda chissà l'auto in quale è derapata devi proprio esagerare col freno a mano ci devi appendere al freno a mano perché se no l'auto proprio non parte resta piantata sui binari però comunque è divertente ha fluidità eccellente per essere poi un gioco comunque online è un multiplayer è un po' un MOBA dei racing game detto MOBA vabbè è un gioco comunque online ci sono tutte le auto con i marchi reali io ho guidato una BMW M3 abbastanza figa in un circuito con che mi sembrava Mosca o comunque molto bello il senso di profondità Maurizio vedevo sì Maurizio vedevo la cattedrale insomma l'hierone graficamente graficamente ne sa il sistema di guida ripeto è un archidone divertente valanga di arcade non è un arcade un po' così apatico che sta lì e punta tutto sul facciamo il punteggio no ti fa anche divertire ti fa anche credere appena descritto dai e sta a livello secondo me sta a livello di drive club forse un po' però un pelo più arcade drive club quindi voto aspettativa aspettativa dai 7 7 meno per questo fatto punteggio 6.8 c'era anche la classifica cioè gli sviluppatori avevano dietro la tabella che scrive a pennarello il punteggio totalizzato da tutti i giornalisti e io ho un punteggio ridicolo tra l'altro avevo posizione fotone primo ho vinto no hai fatto ultimo vabbè non c'è giustizia questo modo sì no è come una partita di calcio oh vince chi prende più gol perché fatti fare più gol come faccio a farmi fare più gol la descritta non è tanto vince chi prende più gol è vince chi colpisce più volte quello in terza fila sì anche chi picchia l'arbitro se prendi tre volte raccoglie le margherite sì ara la tua area correndo intorno vabbè è un po' l'evoluzione del distraction derby in cui non contava nulla arrivare primi ma bisognava abbattere altre macchine poi probabilmente ci saranno altre molte altre ci saranno molte altre modalità di gioco e quindi fanno notare dalla regia com'è il cartodromo c'è il video sui gen quanto tu tu non hai seguito le regole e non hai vinto niente io ho seguito le regole e ho vinto è vero hai vinto tu perché hanno spiegato le regole e bisogna seguire delle cose facendo penultimo perché poi c'è la wallone che ha fatto ultimissimo sì sì vabbè vabbè sì un po' come il cartodromo cartone le regole sono importanti ma tu sei abruzzese e questa cosa non la sai io parto a testa bassa se devo guidare un'auto che già ti rende atipico come abruzzese in gioco abruzzese neanche parte stai a casa a fare la pennichella salutiamo l'abruzzo ciao ciao tu hai visto un paio di giochi indipendenti robette cose vedo quasi più entusiasmo di lui con World of Speed nei tuoi occhi no non avevi appuntamento per Defense Grid e quello per Frozen Synapse ah sì hai ragione hai ragione credo che tu ti riferissi ad alto perdono sono sconnessuto roba interessante Defense Grid seguito dell'omonimo Tower Defense senza il 2 sviluppato da Hidden Path uscirà su PC uscirà anche su console Xbox One e Playstation 4 diciamo dal punto di vista strutturale non stravolge la ruota però non è detto che sia necessario farlo per forza di cose il gioco funziona e mi è stata illustrata nello specifico la modalità DG Architect così definita che è semplicemente un nome aggraziato per definire l'editor dei livelli ora è sembrato da quel poco che ho visto uno strumento piuttosto versatile e anche semplice da utilizzare la cosa interessante è che Defense Grid 2 vuole integrarsi all'interno dell'infrastruttura di Steam quindi sfruttando il workshop per la condivisione dei livelli ma non solo lo sviluppatore ha anche sotto un certo punto di vista vuole spingere gli utenti stessi a dare il loro meglio nel creare un livello perché potrebbe potrebbe nascere una sorta di mercato quindi se la tua mappa viene gettonata piace alla gente lo sviluppatore stesso potrebbe prenderla in carica e parte del ricavato te lo insacrocia quindi potrebbe avere anche sotto questo punto di vista così un certo il mercato delle mappe è è diventato zibaritico mentre per quanto riguarda Frozen Synapse in realtà Frozen Synapse è stata una seconda parte perché il designer di presente mi ha parlato di Nom Nom Galaxy che è questo gioco il nuovo gioco della serie PixelJunk ed è si trova da qualche mese in accesso anticipato su Steam ed è un ibridone di tanti generi assieme si parte dallo strategico all'action al platform ed è si basa sulla premessa molto divertente fondamentalmente è un mondo di fabbriche di zuppa cioè si deve costruire una fabbrica sulla superficie di un pianeta per consumare le risorse e ricavare una serie di zuppe da suvedire poi con dei razzi nello spazio è una roba assolutamente surreale quindi il nome nasce per l'appunto dal famoso trumentone sulla rete nom 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 e quindi richiama nella maniera specifica per l'appunto al suddetto meme poi il gioco è molto divertente perché ovviamente a parte l'essere il crafting che ormai è l'elemento definitivo dei giochi indie c'è la possibilità di masticare l'impossibile pianeta ma fino a far collassare la stessa struttura se tu costruisci un palazzo in cima alla superficie terrestre e mangi proprio le fondamenta il palazzo proprio crolla nell'abisso il programmatori il gioco si vedrà nel 2015 sotto dal punto di vista del design vogliono inserire un sacco di feature ma per ora mantengono l'assoluto riservo su quelle più importanti per forza di cose anche perché il gioco è nei primi di vita ed è sviluppato al 50% dal team e il resto è in collaborazione con Q Games che sta portando per l'appunto avanti anche The Tomorrow Children che è il progetto filo sovietico che abbiamo visto nella conferenza Sony ma il crafting era seamless era seamless e secondo me era persino procedurale oserei dire attenzione attenzione per il resto sì vogliono anche inserire che so le stagioni vogliono inserire una sorta di borsino azionario per le zuppe perché ogni ogni ingrediente forma una ricetta diversa però la gente potrebbe stufarsi nel consumare la stessa zuppa allora devi cercare di ingegnare devi chiamare Visani mettere pure lui dentro la zuppa poi chiami Cracco lo fai a pezzi e lo metti anche lui dentro la zuppa e se non piace anche quello vai a Master ci fa mazzi tutti quanti ma se li metti dentro la zuppa esistono anche poi le compagnie rivali le compagnie rivali che anche esse fanno la zuppa vendono la zuppa e se non le zuppe è poi bagnato c'è anche la zuppa di non una pina c'è veramente di tutto e anche di più comunque se sono cose fioriranno e diventeranno zuppa anche quelle e invece Frozen Synapse è il remake in arrivo per Playstation Vita dell'omonimo gioco che però guadagna il suffisso Prime ma non c'entra Optimus no neanche Metroid idose è per questo e il gioco dovrebbe mantenere la stessa identità loro hanno cercato di tenere fede alla base di trasformarlo in un gioco che sotto il profilo grafico sia leggermente più accattivante per il consumatore console il quale di fronte a la grafica minimalista della versione PC con l'inquadratura dall'alto potrebbe dire no lascio stare non lo compro oltretutto poi l'interfaccia utente è stata chiaramente rivista riprogettata per lo schermo piccolo di Playstation Vita e per utilizzare sia i controlli tradizionali che i controlli touch cosa si tratta? si tratta fondamentalmente di un di uno strategico un misto fra uno sparatutto a squadra uno strategico in cui praticamente tutto si decide nell'ampito di turni della durata dei 5 secondi nella durata dei 5 secondi tu puoi controllare ogni singolo elemento della truppa disposto sul campo di battaglia cercare di progettare i movimenti le azioni tipo vado dietro la parete controllo cosa c'è mire una determinata direzione e simuli nel frattempo la possibile reazione della CPU poi quando sei convinto di aver costruito una fisionomia macchiavellica dai il via e nel frattempo ti accorgi che magari hai pensato tutt'altro che le trappole che hai costruito sei un pirla e non funziona niente e la prendi in saccoccia capito il gioco ribadisco il loro design grafico è bello e potrebbe ritagliarsi il suo spazio nella scena indipendente sul console quindi non vedo perché no ok c'è una domanda per te tra l'altro tu ieri hai parlato di Nvidia si di Nvidia Shield Tablet non l'hai provato vero? no non ho avuto modo di provarlo l'hai visto in funzione dello streaming da pc? ho visto in funzione dello streaming da pc ma siccome era fatto attraverso il cavo di LAN che collegava il pc al tablet non è il benchmark che può essere ritenuto più che attendibile sì quindi non lo so dovrebbe essere uscito oggi ma nel resto d'Europa mi dico dovrebbe ieri nella presentazione parlevano dell'uscita oggi di Nvidia Shield Tablet a 299 euro versione soltanto wifi no sì 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 anche sul mercato italiano? adessamente non ricordo però così è comunque dopo aver parlato di tre giochi in fila andiamo proprio sul nazional popolare tra l'altro vedo che c'è anche chi lo chiede sulla chat PES attenzione beh mi sa come ben sa anche il buon Mottura che l'aveva provato alle tre sì con Mattia sì i miglioramenti sono miglioramenti rispetto a PES 2014 sono sensibili nel senso che è proprio evidente ma anche diciamo proprio i miglioramenti rispetto a PES nella vita proprio infatti lo sviluppatore inglese c'era l'head degli sviluppatori inglesi il traditore quello che era di FIFA va beh no no non sono sicuro di chi fosse comunque c'era lui che ha spiegato che sostanzialmente la volontà principale di questo nuovo FIFA 15 era quella di tornare a scusate scusate e che ne parli in positivo quindi ti viene da chiamarlo FIFA è un pochino sì no comunque PES 2015 torna torna alle origini torna a PES 6 torna a suo niente torna a PES 6 e quindi è proprio visibile si vede che è fatto meglio ci sono le animazioni del controllo di palla che sono molto più fluide non c'è un input lag fastidioso come poteva essere quello dello scorso anno mi ha detto che non hanno dovuto riscrivere nulla da zero pur essendo la nuova versione su Xbox One e PS4 io ho provato la versione PS4 era ottimo visivamente come è sempre stato poi il PES tutto sommato beh però secondo me è migliorato ancora nel senso soprattutto ne parlavamo prima nel realismo dei volti credo che veramente ci sia uno scarto interessante rispetto a FIFA l'illuminazione di FIFA personalmente io continuo a preferirla ma la resa dei giocatori secondo me proprio a questo giro è impagabile di